Cioè è mattina e ho appena già mangiato mortadella o tartufo, cannolo siciliano, qui alla Sigep di Rimini è proprio, cioè non lo so quanto chi li ho preso, infatti fammi un'inquadratura alta, non me la fare bassa, fammela così, no no non ti avvicinare troppo perché poi già la telecamera ingrassa tu. Siamo alla Sigep, questa fiera internazionale dove veramente ci sono i più grandi e noi siamo tra i più grandi, entriamo qui in questo caffè studio dove troveremo le eccellenze siciliane. Seguimi! Gusti di Sicilia è il nuovo modello originale di mercato di prodotti dell'enogastronomia siciliana in cui la tradizione dell'alta qualità siciliana non si compra soltanto ma si consuma consapevolmente. È un luogo che unisce la vendita, la ristorazione, la cultura alimentare delle eccellenze enogastronomiche della Sicilia. I luoghi dove aprire un corner Gusti di Sicilia sono infiniti e seguendo i consigli del team professionale che guida i progetti, aprirne uno con l'esclusiva territoriale sarà facile, così come sarà facile gestirlo, visto che gli assortimenti e la consulenza saranno fruibili a costi minimi. Gusti di Sicilia vuole dimostrare che esiste la possibilità di offrire a un pubblico ampio cibi e vini a prezzi sostenibili, comunicando al tempo stesso i criteri produttivi, il volto e la storia di tanti produttori che costituiscono il meglio dell'enogastronomia siciliana. In questa manifestazione qui a Rimini il mio compito è anche quello di cercare di creare sinergie, unioni di aziende, nel nome del gusto siciliano, per cui fare quelle cose che diano possibilità di far conoscere meglio i nostri prodotti. Questa combinazione è ideale, si tratta di una grossa azienda siciliana che esporta in 72 paesi, che viene messo con un piccolo produttore siciliano, questo è un produttore di caciocavallo, che non avrà mai la possibilità di confrontarsi con i 72 paesi, perché non ha mai la produzione per i 72 paesi. Però il connubio stoccato, sceduto tramite la nostra rete, può significare la garanzia di un caciocavallo da provare, e per un'azienda che produce poco, insieme alla possibilità di una combinazione di gusto, in questo caso il bianco di valver nero. Avere unito un piccolo con un grande, significa dare un vantaggio al grande, perché il grande ne ottiene il beneficio dell'originalità della sua piccolezza. Il bianco di valver nero diventerà più grande grazie al caciocavallo. Noi siamo imprese che unite distribuiscono gusto siciliano. Nella nostra distribuzione abbiamo pensato opportuno di valutare sinergie, abbiamo ricostituito il regno delle due Sicilie, era fatto dalla Campania e dalla Sicilia. Non parliamo dei bormoni perché abbiamo dei brutti ricordi e ben ricordi nello stesso tempo, per la loro cultura e per le loro invasioni. Qui abbiamo voluto mettere insieme la forza. Come si può smentire quella qualità eccezionale della mozzarella di bufalo? Quella vera, quella tracciata, non quella finta, quella mitteleuropea che non è mozzarella di bufalo. A questa volta abbiamo detto, scusate, ma le nostre qualità, voi napoletani, vecchi cugini, perché non li doveste riconoscere? Bene, qui abbiamo, ci abbiamo provato, ci siamo riusciti. La Diana Casearia, produttrice della migliore mozzarella che c'è in piazza, ha deciso di farsi dare una consulenza per distribuire l'eccezionalità dei formaggi siciliani. Qui presente con noi c'è Angelo Piccolo che fa questa parte per rilanciare non soltanto l'eccezionalità, ma i gusti. Noi abbiamo preparato i nostri formaggi con le loro indicazioni e quanto prima vi diremo come gustarli, ma come gustarli con le mostarde piccanti, perché il formaggio può essere una pietanza, non soltanto pane e formaggio. E allora l'evoluzione, la qualità, l'eccezionalità, la possibilità di unire sinergie di imprese, crea divulgazione corretta, onesta, semplice, dei grandi gusti siciliani. I nostri prodotti sono tutti certificati, con latte esclusivamente italiano. Ogni singola mozzarella ha un numero di lotto identificativo. Digitando il numero di lotto, oggi noi possiamo verificare la quale stalla previene il latte. Quindi è una cosa importantissima che il consumatore finale sappia cosa mangia. Qui dobbiamo far capire agli italiani, siciliani e napoletani che non c'è trippa per gatti. Ma quale formaggio dovrebbero cominciare a conoscere meglio? Ma quello siciliano. Ma non è così, perché probabilmente noi dobbiamo conoscere i 500 formaggi di altre nazioni, quando in Italia se ne fanno mille. Abbiamo un potenziale di produzione di qualità, di eccezionalità, unica al mondo. Anche nel pecorino. Si ci mette insieme per farla conoscere e farla consumare. Poi anche i pecorini, ovunque è scritto solo latte di pecora, esclusivamente latte siciliano. E questa è la nostra garanzia e garanzia per il cliente finale. Le buratine, anche con latte naturale, senza foglia, perché queste sono le nostre buratine. Ogni buratina singolarmente. Tutto è panna fatta nostra, non panna francese. Quindi tutto esclusivamente italiano. Vabbè, allora non ci rimane altro che dire buon cacio a tutti. Un gran vino, grandi premi, grandi annate, una cultura della produzione del nostro territorio, il Duca Enrico, ed assimilare con un prodotto nostro. Anche qui un piccolissimo, un produttore di Capicollodi sui non erodenebrodi, che può essere benissimo riconoscibile insieme al vino Duca Enrico, e insieme ad una coppola, è il Cadò di Pasqua. È il nostro cuoco di Pasqua di quest'anno. Un piccolo produttore con un prodotto eccezionale, rivalutato nella sua produzione da un grande vino che si appropria della sua originalità. È la proposta che facciamo noi per seguire l'intento di fare riconoscere le nostre produzioni eccellenti. È un'altra presentazione di un'altra eccellenza siciliana. È il maialetto suino nero dei Nebrodi. È nero, poveretto, è come Calimero, però è solo da gustare e da mangiare. È un'eccezionalità nell'allevamento, è allevato allo stato brato. Ce ne sono poche quantità, speriamo di poterne allevare allo stato brato molto di più. Abbiamo trovato un piccolo produttore di questo prosciutto che può fare soltanto piccole quantità, che però ci può dare una sensazione di quella che potrebbe essere un'eccezionalità italiana. un suino nero che è pascola nelle campagne della Sicilia. Il nostro amico ci potrà far capire perché dovremmo provare una volta nella vita a poterlo gustare? Bene, salve a tutti. Allora, il suino nero è un prodotto particolare perché è una delle cinque razze autotone che vive in Italia. e questo è esattamente sui Monti Nefrioti. Vive allo stato brato, quindi mangia ghiande, nocciole, quello che trova sotto bosco. La sua particolarità è il grasso saturo, ovvero un grasso buono che contiene omega 6, che molti nutrizionisti ne danno come dieta perché non è un grasso che fa male. Avviso per gli acquirenti, costa quanto un buon San Daniele. L'eccezionalità sta nel suo gusto, non nella proposizione commerciale. Noi non abbiamo bisogno di enfatizzare le qualità, abbiamo bisogno di farle conoscere per produrne di più e dare soddisfazione ai palati di tutto il mondo. Cosa stai mangiando? È un prosciutto. Che prosciutto è? È un prosciutto crudo, ma esattamente dire non lo so. Cioè, tu mangi? No, praticamente la mia ragazza che l'ha preso e tu assaggiare questo. La colpa è sua, la colpa è sua. No, ma è molto buono, veramente. Suino nero de nebrodi. Ah, complimenti, comunque. È buono? E lo sai il pane che c'è sotto come si chiama? No, perché diciamo i prodotti siciliani non è che... Allora te lo dico io. Moffoletta. 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 Allora... ho detto prima anche quel pane tondo, buonissimo. Io sono rumeno e diciamo ecco... Ti piace? L'ho ritrovato, sì, molto buono. Qui è proprio gusto siciliano. No, i sapore sono molto buoni. Ti lascio mangiare. Va bene, grazie. Ciao, ciao. Ma di che parliamo? Parliamo di tartufi. Ma siamo ammattiti. Ma sti tartufi, col siciliano, cosa c'entra? È veramente un'assurdità. In Sicilia tartufi non ce ne stanno. ma perché questo tartufo? Abbiamo detto in Italia qual è la cosa che costa di più in campo dell'eccezionalità del food? E ci hanno detto sono i tartufi, i tartufi bianchi, i tartufi neri. Ma quanto costano? E qui ci vuole un capitale per comprare questi tartufi. E noi abbiamo detto scusi, quanto ci vuole? Un chilo di tartufi 3.000 euro. Ma con la crisi che abbiamo in Sicilia chi potrà mai comprare questi tartufi? Ma il problema è quanti siciliani conoscono i tartufi? Ma è veramente così buono da doverlo pagare a 3.000 euro l'uno? Al chilo? Beh, allora con Bernardini che è uno dei raccoglitori di tartufi abbiamo detto dateci una mano perché alla fine il tuo grande tartufo quello che costa 1.000 euro io ho intenzione di farlo diventare nulla 50 centesimi di una panella e probabilmente un euro di un'arancina da lì l'idea di un'arancina al tartufo bianco e di una panella al tartufo nero la food street fa ridimensionare il tartufo una fatta con un burro l'altra fatta con un carpaccio l'abbiamo presentato al salone del gusto ha vinto i gran premi di gusto ma la verità che la cucina siciliana e la cucina da strada ha ridimensionato il prezzo del tartufo gustatelo perché le ricette ve le abbiamo già date Bernardini che devo dire hai detto quasi tutto tu credo che questa sia la strada anche per poter farlo utilizzare anche a un numero maggiore di persone quando è un prodotto di nicchia e parliamo di prodotto fresco a 1.000 euro ma poi abbiamo anche la possibilità di proporlo come hai fatto tu con nuove ricette nuovi gusti e questo ci rende sicuramente la possibilità ci dà la possibilità di essere presenti anche sulle tavole di persone che magari manco se lo aspettavano questo credo che sia un buono un ottimo l'arancina è conosciuta la panella è poco conosciuta riconosciamo la cucina di strada con un livello di eccezionalità di gusto perché sono veramente buone noi è da tempo che le produciamo le produrremo in maniera evidente nei nostri magazzini affiliati questo è il progetto rilanciare un gusto in maniera che reti di aziende e produttori e artigiani del gusto siano insieme questo è un ottimo obiettivo grazie mille grazie mille cosa sta mangiando pisto pane con mortadella mortadella e basta mortadella con funghi forse no sbagliato cos'è eh indovina assaggia di nuovo vediamo se mortadella con tartufo tartufo nero mamma mia una ciccheria com'è ah è buonissimo per cui moffoletta questo pane si chiama moffoletta che è un pane tipico nostro siciliano palermitano con la mortadella e con il tartufo c'è nord sud centro si sposa tutto con nubio fuori di testa questo e com'è ah è buonissimo allora ti lascio mangiare grazie arrivederci signora la prende anche lei queste si chiamano panelle mangiate vediamo se indovinate con che cosa sono fatte secondo lei con che cosa è fatta questa panella c'è patata secondo lei semola niente sbagliato farina di ceci fantastica veramente veramente molto molto buona questo è un piatto povero da strada lo street food in sicilia a palermo si cammina e ci sono queste frigitorie com'è? buona e leggera buonissima un panino o le panelle e una è a posto decisamente io poco fa ho visto che ha mangiato pure un'arancina ottimo pure quello col tartufo come si sposava secondo lei bene bene per chi piace il tartufo è ottimo e chi piace l'arancina e chi piace l'arancina pure da noi si dice arancina arancina in sicilia arancina palermo noi la chiamiamo arancina noi siamo di torino quindi arancino però questa è quella siciliana anche se c'è il tartufo però è arancina arancina non arancino da noi a palermo si dice arancina vediamo un po' che cosa c'è dentro questa arancina arancina al tartufo bianco ragazzi io non l'avevo mai mangiata devo dire che è un accoppiamento strano cioè non pensavo mai che l'arancina siciliana potesse avere il tartufo devo dire che io amo sia l'arancina sia il tartufo e in questo momento non vi dico dove sono allora siccome chi è dietro questa camera non ama tanto il tartufo ma io sto facendo di tutto per farglielo amare adesso gliela offro e vediamo che cosa dice assaggia l'ha assaggiata ora io voglio vedere la sua con la telecamera ehi l'è piaciuto ruba l'arancina al tartufo e siamo qui con la regina la regina della tradizione dei gusti siciliani la cassata tutti la sanno guardare tutti la magnificano ma in moltissimo non la conoscono perché noi abbiamo avuto l'abilità di fare un dolce unico al mondo ma di non saperlo trasmettere nel gusto e nella mente della gente vedete tutto questo a origine da un fatto caratteriale chi l'ha prodotta è un isolato è un isolano è un siciliano e come tutti i siciliani sono un po' individualisti egoisti lui l'ha fatta per lui non sapendo di fare un bene immaginabile nella pasticceria cassate cazzaruola è la forma metallica dove si fa la cassate gli ingredienti pan di spagna crema di ricotta dolcificata canditi un dolce unico un dolce che potrete riprodurre a casa vostra perché la nuova ventata è smentire tutta quella pasticceria che l'ha sconvolta come dolce quando è nata non c'era la velata di zucchero è stata messa per coinventarla e perché lo zucchero costa meno della crema di ricotta quella originale è fatta con la crema di ricotta a velo che dà il bianco del colore io dico che dobbiamo esportare la cultura di fare la cassata non dobbiamo spedire le cassate a costi inimmaginabili per fare mangiare un dolce che non lo è perché le cassate vengono mandate spedite congelate e mangiate male e quello che mangiano non è la vera cassata io sto convincendo alcuni pasticceri a farla come la faccio a casa mia e purtroppo non è una cassata che si può fare e conservare perché solo con la velatura di ricotta dopo due giorni in frigo si apre consumate le cassate con la velatura di ricotta perché ve ne accorgereste se non sono fresche la gente deve poter fare milioni di cassate pensate che milioni di cassate fatte da tutti i pasticceri perché hanno imparato a farlo significa fare economia perché abbiamo bisogno di milioni di pecore che facciano del latte per della ricotta che congelate abbattuta oggi grazie alle moderne strutture di controllo può essere esportata in tutto il mondo ma i mandarini siciliani sono comunque da dolcificare e allora la nostra intelligenza è nel vendere il sapere fare non il prodotto e se gli altri saranno più bravi di noi a farlo organizziamo una competizione di cassate fatte da tutto il mondo perché la cassata è il dolce del mondo la Sicilia è nel mondo grazie a lei io sono convinto che questo messaggio e questa potenzialità possa realizzare grande economia per la nostra isola notorietà di un dolce inimmaginabile la prima ad averla convinta è Angela Varisco abbiamo deciso che nelle nostre pasticcerie non faremo più cassate con la velatura di zucchero obbligate i vostri pasticceri ad avere la cassata con la velatura di ricotta per Angelo è un impegno lei ha la pasticceria Messina io ce l'ho a Palermo grazie e buona cassata a tutti le brioci di stile siciliano ma come mai avvicinati ma guarda sembrano sembrano dei piccoli seni con un grosso capezzo questo pasticcere è una grande fantasia ma non è che è completamente così perché nel fare la cosa così ha dato un servizio prima non c'erano i cucchiaini di plastica io levavo il capezzolo lo utilizzavo come cucchiaino per il gelato è così che la vera brioche questa la voglio io questa la mangio io allora se la vuole è gratis non pagare 20 euro lei la deve assaggiare mangiare e poi mi dice cosa ne pensa noi nel frattempo la riprendiamo mentre mangia mentre mangia sì certo con gusto certo la verità lei deve dire la verità è la prima volta che le provo quindi proverò questo piacere in diretta perfetto ma l'odore si sente un gran profumo confermo profuma ed è anche buona quindi voi l'odore ve lo perdete però il gusto ve lo garantisco e la morbidezza soffice si vede al tatto e anche in bocca ma io la vorrei fare provare questa brioche con un po' di mortadella al tartufo mortadella al tartufo proviamo il gusto della mortadella al tartufo la andiamo a prendere la andiamo a prendere aspetta che ce la portano andiamo se ce la portano almeno la faccio sentire anche a casa quello che ho provato in diretta la mortadella è arrivata la mortadella al tartufo adesso lei prende un po' di prioche prende un po' di mortadella e la prova insieme proviamo questo contrasto dolce e salato vediamo come va vediamo come va devo confermare che ha il suo perché allora le piace? mi piace ero inizialmente scettica invece da provare anche questo si perché noi pensiamo che la brioche va come una cosa dolce ma non solo confermo questo dolce salato non mi dispiace che fa gliela lascio questa mortadella grazie gliela lascio me la lascio che continuerò a mangiarla e allora buona continuazione grazie mille di nuovo vuole sapere cos'è? cos'è? questo si chiama minuzza di vergine minuzza di vergine cioè in italiano seno di vergine ed è fatta con un impasto all'esterno ricotta farina e uova all'interno invece è crema gialla o crema pasticcera e goccine di cioccolato va tutto infornato e basta questa è una ciliegina e zucchero a velo adesso vi do i tovaglioli e vi serviremo da voi così facciamo anche prima meravigliosa crea dipendenza direi di sì lo sa come si chiama? come si chiama? minuzza della vergine bellissimo perché è della vergine? penso della vergine Maria da lì io penso che ne prenderà un altro si è preso tutto il piattino siamo sicuri siamo sicuri di assaggiarlo certo ho detto minuzza delle vergine e lei cosa mi ha detto? questi qua sono le tette di Sant'Agata a Catania i minni di Sant'Aita ma queste non sono quelle di Catania queste sono di Palermo apparentemente era simile il gusto è magico ma non c'è un termine che si può definire spettacolare guarda non c'entra niente no no sono totalmente diversi lì c'è un biscotto perimetrale esterno e poi ripieno di crema e basta questo questa è ricotta all'esterno e all'interno è una crema bianca e cioccolato crema gialla con delle quindi una chantilly sì di cioccolato complimenti ragazzi crea dipendenza questa qui questa è di droga solo a guardarla guarda allora oltre Palermo oltre Catania abbiamo pure le i minni di Virgini di Sambuca di Sicilia è similare però esteticamente ha una pasta frolla all'interno ha una crema al latte una zuccata e un pan di spagna credo che questo comunque sia più buono a mio gusto poi hanno vinto queste minuzze qua in questo momento sì sì complimenti grazie noi di Supergiu Gusti di Sicilia e tutti i produttori ringraziamo per l'ospitalità all'interno della SIGEP di Rimini Caffè Studio e Mangiapello Redamenti Caffè Studio sono coloro che hanno progettato e Mangiapello Redamenti sono coloro che hanno realizzato tutto lo stand e a questo punto vi abbiamo fatto vedere di tutto e di più abbiamo fatto vedere tante ricette tanti matrimoni tra il nord il sud il centro la fantasia veramente va oltre e che cos'è il pane questo pane questo odore che esce da questo forno e vi lascio con questa frase che non dovete sottovalutare pensare chissà che cosa ma riflettete bene a questo punto vi auguro più pane per tutti